sì stasera vediamo lo shop del 2 aprile qua sono tutti i balletti sono tutti i canzoni che potete fare sia in battaglia reale cosa ho fatto vedere e il palco il festival c'è ancora il lady gaga qui marshmallow ritornato lady e levis amyton e capitano america hulk e ghost rider anche a E' tornato Brat E' a ombre la novità di Fornite Ma è rampante e rinnegata Ragazzi è ritornata Rubino Anche sull'atrice Galaxy è tornata Le macchine McLaren che costa 2800 bucks e Masamuni 1500 Gostose macchine però belle Questa è tutto stile Lego Il pacchetto 18 euro No 28,99 euro 30 euro ragazzi E' pacchetto 18,49 E poi c'è il pacchetto di Pacchetto operazione 203,75 euro Che dà anche la bombarola Se ho sbagliato è bombarola No agente lucente scusate Ho sbagliato Agente lucente Però per 3,75 euro E' bel scontato che avete anche pezzi di Lego E niente ragazzi Se vi è piaciuto il video dello shop Mi raccomando Lasciate like e commentate sotto Il video dello shop Cosa ne pensate di cosa shop di 2 aprile Ci ritorniamo domani con un altro video dello shop Mi raccomando Aspettate il mio video in uscita Di shop di domani Di 3 aprile E chi non ha ancora fatto Lasciate tanti like Ai miei vecchi video shop E' tutto questo ragazzi Ci vediamo nel prossimo video shop Buonanotte a tutti GG Grazie a tutti